Via libera alla stabilizzazione dei precari ASP assunti per fronteggiare l'emergenza covid e all'assegnazione degli incarichi di funzione. A settembre verrà pubblicato l'atto riconoscitivo per confermare l'iter di assunzione stabile del personale precario. Lo ha deciso recentemente l'azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta. Soddisfazione è stata espressa dai vertici del sindacato CISLFP, i quali hanno elogiato l'impegno del direttore generale dell'ASP di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Il segretario generale Salvatore Parello, il segretario territoriale Luca Vancheri e il segretario aziendale Antonino Guagenti hanno sottolineato la correttezza dei vertici ASP nei confronti dei lavoratori e anche la bontà dei rapporti tra i sindacati e l'azienda sanitaria.